Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e bentornati su Xenoverse 2, perché oggi andremo finalmente a provare insieme Fuged Zamasu, il secondo personaggio introdotto col quarto DLC di Dragon Ball Xenoverse 2. In questi giorni sto facendo un botto di video sul quarto DLC, se siete davvero carichi per questo quarto DLC, pollice in su adesso! Ragazzi superiamo almeno i 5.000 mi piace anche per questi nuovi personaggi. Inoltre sul mio canale avete già visto VEGET, VEGITO, VEGECU, SUPER SAIAN BLU, quindi il primo personaggio introdotto con questo DLC, ed è stato davvero molto molto figo, ma oggi andremo a scoprire insieme Fuged Zamasu e lo andremo a fare facendo una delle nuove missioni parallele. In questa qui, eretici da un mondo oscuro, abbiamo addirittura la tuta Super Saiyan di quarto livello, con la parrucca e la coda. E tra l'altro c'è anche Divinità Sbloccata, che è una nuova forma di, non so, carica massima, mettiamola così. Questa la andremo a vedere in uno dei prossimi video, e infatti oggi facciamo Piano Zero Mortali, e potremmo ottenere comunque altri vestiti, altre mosse molto molto speciali. Proviamoci! VEGET, ragazzi, è davvero fighissimo. Esteticamente è molto simile alla forma base, come abbiamo detto è solo una sorta di colorazione diversa per i capelli, però comunque a tanti di voi è piaciuto, ma ecco, secondo tanti, potevano fare qualcosa in più. Oggi vediamo Zamasu Fusione, detto in inglese Fuged Zamasu, ha gli abiti Kaioshin di colore nero, praticamente sono i vestiti che ha Black Goku, mettiamola così, un po' modificati e fusi insieme a quelle di Zamasu. Se notate, ecco, esteticamente sono quelli. E quindi, ragazzi miei, vediamo le mosse. Abbiamo la furia sacra, lama del giudizio, lampo della soluzione, divinità sbloccata, che non è solo una sorta di carica massima, poi vedremo il perché. Furia divina purificazione, colpo di rottura e ammira la mia potenza divina. Ragazzi, tutte le mosse di questo personaggio sono qualcosa di incontrollabile, e con noi avremo Black Goku Super Saiyan Rose, e... e basta. Non voglio portare nessun altro. Spero di non aver fatto un grave errore, ragazzi, lo auguro con tutto il cuore a me stesso, e vediamo. Non avrei mai pensato di rivoltarmi contro me stesso! E questa è la carica, quella lì, divinità sbloccata per Zamasu Fusione. Sembra che non stia arrivando nessuno qua. Hmm, tra l'altro abbiamo già Black Goku e Zamasu come aiutanti. Tra l'altro notate anche sta cosa. Vedete, questa divinità sbloccata ha fatto in modo tale che Zamasu sia così tutto sbrilluccicoso, e credo che ciò andrà a potenziarlo in pratica. E non arriva nessuno. È come se venga narrata una sorta di storia, è come se venisse narrata un po' di storia. Hmm, Zamasu, me stesso, ma diverso da me. Un dio caduto e viziato dall'immortalità. Ragazzi, vediamo subito il moveset di questo personaggio. È davvero stranissimo! Guardate cosa sto facendo! Mamma mia, ragà! Allora, è stranissimo perché, vedete questa mossa? Praticamente questa. Non sono le sfere che lancia di solito. Vedete, c'è differenza. Io adesso sto premendo triangolo, che... triangolo? Che dovrebbe essere praticamente l'attacco potente del personaggio. Vedete? Li sto alternando adesso. E sono davvero molto, molto fighi. Vediamo anche un attimino la lama del giudizio cos'è. Ha messo che io riesca a buttare via, ecco, questo Black Goku. Lancialo via. Boom! Bene. Lama del giudizio. No, vabbè, fighissimo. Questa è bellissima e colpisce da lontano. E notate, alle spalle di Zamasu, per qualche secondo, compare quella cosa divina lì. Davvero molto, molto bella. Direi di provare a colpire con la furia divina purificazione! Mamma mia, raga! Cosa sta succedendo? Con Goku non ci sono limiti. In ogni caso, questo personaggio sembra essere davvero fortissimo. Non so se mi piace più dell'altro, eh. È più di Veghet, Veggeku, Veghetto. Ormai lo chiamerò in tutti i modi. Però questo qua spacca davvero tantissimo. Abbiamo, vediamo un po' tra le altre mosse, Furia Sacra. Non posso farla perché ora lui si trasformerà in Super Saiyan Rosé. E proveremo anche diverse combo, tra poco. Tranquilli, eh. Io vi ricordo davvero, ragazzi, che nei prossimi giorni arriveranno due video al giorno. Vediamo per quanto tempo, non lo so. Quindi gli orari sono 14, 30 e 18. Cercherò di fare il possibile per mantenere questa programmazione, almeno per un po' di giorni. Almeno per mostrarvi il più possibile tutti i contenuti di questo terzo... Ah, c'è di questo quarto DLC. Allora, proviamoci adesso. Furia Sacra? No! Ragazzi, aspetta. Sta mossa si ricarica. Ha una sorta di potenziamento che è possibile fare. Allora, prendiamo sto Black Goku e proviamo a scaraventarlo via. Per fortuna questa missione parallela non è troppo confusionaria come quella che abbiamo fatto con Veggeku. Vedete? Si... Non lo so. Si ricarica ulteriormente? Vedete? Zamasu resta bloccato così. Provo un attimino a lanciarla adesso. Non appena si ferma, colpisci. Ok. È molto, molto potente, devastante e mi piace un botto. Quindi, ragazzi, il personaggio almeno per ora mi soddisfa. Boom! No! Stavo per fare lo stamina break, peccato. Teletrasportati e vai ora. Anche lui può farlo. E giriamoci. Benissimo. No! Volevo fargli... Vabbè, di nuovo la distruzione del vigore, ma non mi è stato possibile perché l'avevo lanciato via. Adesso proveremo a fare magari anche un po' di combo diverse, eh? Allora. Teletrasportati. Lo lanciamo via. Vediamo. Vorrei recuperare altro vigore, infatti mi si è distrutto. Nel frattempo, però, ammesso che Black Goku non ci distrugga, vorrei provare a fare assolutamente, come si chiama, il lampo della soluzione. Vediamo se abbiamo già visto qualche volta questa mossa. Vediamo un po', spostiamoci. Eccolo qui. Ok, mi sembra una mossa davvero molto simile a quella che abbiamo visto per Omega Sharon. Credo che abbiate capito, no? Super Inchilon, mettiamola così. Vedete, è molto, molto figo. Fa una sorta di lampo malvagio e oscuro. Allora, proverei a colpire. Vediamo un po', così. Vediamo a fare altre combo. Avviciniamoci. E dai, Zamasu, non avere paura. E lui scappa. Qualcuno mi dice, Joseph, non devi dire che è un vigliacco. Avete ragione, scappa per potenziarsi. Sì, mettiamola così. E vediamo un po' chi altro arriva qui. Oh, mamma mia. Gli androidi. Chi osa avvicinarsi? Non mostra la tua... Non mostrare la tua orribile forma mortale ai miei occhi. Ragazzi, non so per quale motivo siano arrivati gli androidi. Che sia il futuro di Trunks nel quale gli androidi sono ancora vivi. Non lo so, vediamo. Io proverei a colpire con la furia divina per rivedere un po' questa Suprema, se è figo oppure no. E mi sa che l'android è separato. O forse sta facendo qualcosa di strano per non farsi colpire. In ogni caso, noi con Zamasu nella sua forma fusa stiamo ottenendo un bel po' di danni, quindi tra pochissimo mi vado a mettere una capsula. Io vi ricordo che, purtroppo ragazzi, c'è necessario perché queste missioni parallele sono davvero molto difficili. E poi, come se non bastasse, è la prima volta che uso questi personaggi. Quindi di base non conosco nemmeno qual è la vera potenzialità che hanno. Però, in ogni caso, le combo di sto personaggio mi piacciono un botto. Chiaramente non riesco a fare magari quelle lì un po' più difficili. Ve lo ammetto, e l'ho sempre detto, non è che ci sia qualcosa di cui vergognarsi. Però quelle di base, diciamo che spaccano un botto. Andiamo di nuovo con la furia divina di purificazione. E non ha colpito il nemico. A quanto pare, invece, un nostro alleato è stato proprio sconfitto. Te le trasporto e vai ora con la capsula, giusto in tempo. Ragazzi, ci siamo salvati perché stavamo per fare una brutta fine. Ed è quella che in realtà farà questo androide numero 17. Allora, vediamo un po' di avvicinarci a lui, eh. Dai, dai, resisti, Zamasu. Vai così. Distruggiamolo benissimo. No, ragazzi, sta lanciando via. No, devo avvicinarmi. Devo assolutamente avvicinarmi all'androide perché dobbiamo buttarlo giù. Nel frattempo c'è Zamasu che sembra stia facendo un buon lavoro perché ha appena curato Black Goku Super Saiyan Rosei. Ci sta. Ora però vorrei vedere di provare, ecco, anche di nuovo la furia sacra. Colpiscilo e l'abbiamo eliminato. Ok, potremo anche continuare a spammare furie sacre a non finire perché a quanto pare è una mossa davvero molto potente. E sta androide 16, ragazzi, sta insistendo un po' troppo per i miei gusti. Colpiscilo! Gli fa un bel po' di danni. Non sono eccessivi, almeno all'apparenza, eh. Però, vedete, anche le combo stesse sono davvero molto versatili e fighe. Vediamo un po'. Lanciamolo via. Continuiamo a colpire così e lui si sposta. Ci sta. In ogni caso, gli resta solo una barra di vita e poi lo abbatteremo definitivamente. Almeno ci proveremo, eh. Allora, teletrasporto. Vai adesso. Si sposta! Ma quanti teletrasporti ha a disposizione? Vai così. No, ragazzo. Ragazzo mio. Mio caro androide. Per te sarà la fine. No! Stavo per concludere in bellezza la combo e poi mi ha fermato. Vai così. Boom! Ragazzi, fa un botto di danni quando questa combo va a segno. Va oltre i 20 colpi e... Praticamente il nemico viene abbattuto subito. Proviamo a colpirlo così con le ultime sfere di energia. Purtroppo resiste. Ma questa è la sua fine. Oh! L'ultimo avversario, chi è? È l'androide numero 18. Che fino ad ora, ragazzi, abbiamo proprio ignorato. E lei ha ignorato noi. Vediamo con la Suprema. Non so se è possibile potenziarla. Credo di no, ma gli abbiamo fatto davvero tantissimi danni. Andiamo con la Furia Sacra. Ed è stata ormai sconfitta. E questa è la conclusione. Purtroppo non abbiamo fatto quella Suprema. Ragazzi, scrivetemi voi nei commenti in che modo si fa quella Suprema. Perché abbiamo ottenuto anche come grado D. Ed è davvero uno schifo. Abiti della Resistenza. Bah, almeno abbiamo ottenuto qualcosa, dai. Andiamo anche a vedere quali sono questi abiti, ragazzi. Perché di base per ora non ho ancora capito di che si tratta. Che si tratti, non so. Degli abiti, direi, girobei? No, vabbè, sono proprio quelli della Resistenza che hanno indosso le guardie. Questi qua, ragazzi, non erano stati svelati inizialmente, eh? Zamasu, nella sua forma di fusione, mi piace un botto. Così come, tra l'altro, ho apprezzato nel precedente video che trovate qua sul mio canale, Vegeku Super Saiyan Blue. Quindi andiamo a fare un ultimo scontro insieme per provare ancora un altro po' questo personaggio. E andiamo al futuro in rovina. Il nuovo stage. Io, in ogni caso, ci tengo a dire una cosa molto importante che magari qualcuno potrebbe, non so, avere dei dubbi al riguardo. Anche se questo è l'ultimo DLC del gioco, tranquilli. Oltre al fatto che abbiamo tantissima roba ancora da mostrare qua all'interno del quarto DLC e del DLC gratuito, io poi continuerò, ovviamente, a giocare a Dragon Ball Xenoverse 2 per davvero tantissimo tempo. Ragazzi, ma davvero per tanto, perché noi abbiamo ancora i What If, ne ho tanti in mente da fare, quindi ci sarà tempo per giocare ancora. Poi abbiamo Dragon Ball AF. Ragazzi, Dragon Ball AF credo che arriverà sempre, solo ed esclusivamente, su Dragon Ball Xenoverse 2 e non credo in altri giochi. Infatti mi sto riferendo a Dragon Ball Fighters, il gioco che uscirà all'inizio del 2018. Probabilmente, quando giocheremo a Dragon Ball Fighters, mi vedrete ancora giocare qua sul canale a Dragon Ball Xenoverse 2, perché What If e Dragon Ball AF voglio farli ancora su questo gioco, perché è quello che probabilmente si presterà meglio a questo tipo di contenuti. In ogni caso, ragazzi, Dragon Ball Xenoverse 1, ma anche il 2, ce li avrò sempre nel cuore perché sono quelli che mi hanno accompagnato su YouTube per davvero tanto tempo. Oltre al fatto, ecco, che sono bei giochi alla fin fine e ci si può divertire. Ok, il vigore è stato distrutto. Vediamo di abbattere il nemico. E poi, parlando proprio di Dragon Ball AF, vi ricordo, ragazzi, che il prossimo episodio arriverà questa domenica alle 14.30. Infatti, ve lo dico sempre, tutte le domeniche alle 14.30 arrivano tutti i nuovi episodi di Dragon Ball AF. Quindi non potete perderveli, perché scopriremo qual è il vero intento di Ardos, il personaggio che è giunto poi, improvvisamente, in Dragon Ball AF, e che vi avevo mostrato un po' di tempo fa. È davvero tanta, tanta roba, perché ha un bel piano. Tanta roba. Perché tanti poi si sono chiesti, Joseph, ma non ho capito, Ardos è buono oppure è cattivo? Eh, ragazzi, lo scopriremo. Perché, a quanto pare, per ora ha fatto qualcosa di positivo. Salvare tutti i guerrieri Zeta. Ma non è tutt'oro quel che luccica. No, 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 no. Le cose andranno in maniera molto strana. Furia Sacra, no, mi ferma. Però, vabbè, non parleremo troppo di Dragon Ball AF per evitare grandi spoiler. Quindi, domenica, ci divertiremo. Vai così, mio caro Zamasu. Proviamo a fare divinità sbloccata per aumentare il suo potere. Vediamo se ci riesco, ma lui mi afferra e mi lancia via. Pigliacco. Lampo della soluzione! Mamma mia, ragazzi. Potentissimo. E peccato che poi scompaia quell'anello alle sue spalle. Mi sarebbe piaciuto vederlo, magari, fisso. Anche se credo ci sia un modo per farlo tenere fisso. Se lo sapete, scrivetemelo ora nei commenti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale cliccando qui nella zona centrale dove c'è questo cerchio. Guardate soprattutto altri video di Dragon Ball Xenoverse 2 cliccando sulle due miniature che vedete ora a destra e a sinistra. Grazie per essere qui con me e alla prossima. Ciao!